Sportività e green, prestazioni ed elettrificazione sono i connubi che caratterizzano la nuova Cupra Formentor e-Hybrid, declinazione ibrida plug-in del primo modello nativo del marchio spagnolo. Un SUV coupé sportivo lungo 4 metri e mezzo, lo stile è dinamico così come sottolineato dall'ampia mascherina esagonale e dai sottili fari led, il resto lo fanno gli spigoli e le profonde nervature sulle fiancate, dietro una linea orizzontale congiunge i gruppi ottici. Le linee tese e spigolose tornano negli interni, dove sportività e high-tech vanno a braccetto, ma uno dei segreti di questa Formentor è la praticità, data dalla tecnologia, dai comandi ergonomici e dai sedili contenitivi dal piglio sportivo. Il sistema ibrido della nuova Formentor è composto da un motore a benzina 1.4 TSI da 110 kW e un motore elettrico da 85 kW, per una potenza di 204 CV e 350 Nm di coppia, mentre nella versione più potente i cavalli salgono a 245 e la coppia è di 400 Nm. Il pacco batterie da 12,8 kWh garantisce un'autonomia in elettrico di circa 60 km, completa il quadro meccanico un cambio automatico a doppia frizione DSG a 6 marce. La batteria con il cavo di serie Mod 2 si ricarica a casa in circa 5 ore, disponibile anche il cavo Mod 3 per ridurre i tempi a 3 ore e 40 minuti. La tecnologia di serie è una delle caratteristiche fondamentali della Cupra Formentor ibrida che presenta infotainment media system con display touchscreen da 10 pollici, virtual cockpit da 10,25 pollici, full link wireless e connectivity box. Gli ADAS sono i sistemi del Safe Driving Pack M che include cruise control adattivo, hike beam assist, frenata d'emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, lane assist e sistema di riconoscimento della stanchezza. Altamente personalizzabile, la Formentor ibrida è disponibile a scelta con cerchi lega da 18 o 19 pollici, tetto panoramico apribile e sedili in pelle. La Formentor i-Hybrid si aggiunge alla gamma elettrificata Cupra che comprende anche la Leon i-Hybrid e la nuova Cupra Elborno. Il listino parte da 37.700 euro al netto degli incentivi statali, mentre per l'ibrida più potente i prezzi partono da 45.050 euro. Il lancio della nuova Cupra Formentor i-Hybrid, in entrambe le sue versioni, è avvenuto a febbraio 2021. Mattuno. nitrono Grazie a tutti.